Siamo al Kodak Theater, è appena finita la conferenza di Nintendo e c'è la possibilità di giocare proprio sul posto al nuovo Zelda che è stato presentato per la prima volta dallo stesso Miyamoto sul palco, un Miyamoto che ha detto che il suo sogno più grande è sempre stato quello di fare uno Zelda dove si poteva comandare la spada e lo scudo proprio come se gli si stesse reggendo nella vita reale e finalmente ha la possibilità di farlo proprio grazie a lui. Ricordiamo infatti che il primo titolo per Wii che è uscito, Twilight Princess, veniva dal Gamecube e quindi non era propriamente un rappresentante delle caratteristiche della console Nintendo. Dicevamo, nuovo titolo di Zelda interamente incentrato sull'utilizzo di spada e scudo col motion sensor, cosa significa? Che i movimenti della spada vengono gestiti interamente tramite il remote che quindi si deve impugnare in mano proprio facendo finta di avere una spada. Dimenticavamo di dire che il gioco sfrutta il motion plus quindi i movimenti della spada sono presi uno a uno e lo si vede anche nel gameplay perché in qualunque momento si muove il braccio i propri movimenti sono ripetuti esattamente da link su schermo. Lo scudo viene invece gestito dal nunchuck e quindi si possono combinare queste due cose attivamente sia nei combattimenti sia come vedremo più avanti anche per i puzzle ambientali che sono la caratteristica principale della serie. Dicevamo comunque dei combattimenti la spada si controlla con il remote ed è quindi possibile dare fendenti in tutte le direzioni verticali, orizzontali, obliqui. Abbiamo visto nella dimostrazione e nel gameplay che diversi nemici richiedono diverse tipologie di attacchi quindi è già ravvisabile una grande profondità da questo punto di vista anche l'utilizzo dello scudo è molto particolare nel senso che se un nemico spara dei proiettili contro di noi è sufficiente muovere in avanti il nunchuck al momento giusto per rispedire il proiettile al mittente sono tutti elementi che fanno capire come sia stato veramente data grande importanza a questo sistema di controllo ed è anche da un certo verso un sollievo per gli hardcore gamers che alle prime battute, alle prime avvisaglie che riguardavano questo nuovo annuncio erano un po' intimoriti sul fatto che lo stesso Miyamoto parlasse di uno Zelda un po' meno complicato rispetto ai precedenti. In realtà si riferiva proprio a questo sistema di controllo che fa utilizzo di pochissimi tasti perché ripetiamo spada gestita dal remote, scudo dal nunchuck e si utilizzano solo i quattro tasti principali del controller Nintendo ad esempio il tasto A serve per correre o saltare durante i combattimenti con lo Z si fa il classico target sull'obiettivo, con C si alza lo scudo e con B si utilizzano gli oggetti e si apre un menu radiale che consente col puntamento del remote di selezionare immediatamente con grande comodità tutti gli oggetti. Gli oggetti sono stati anch'essi una parte preponderante della demo perché ci sono degli oggetti nuovi e gli oggetti classici hanno anche un utilizzo diverso, molto più profondo ci viene in mente il discorso delle bombe, oltre a poterle appoggiare a terra oppure lanciarle facendo mimando il movimento con remote, è anche possibile farle scorrere come una palla da bowling con lo stesso movimento che si fa nel bowling di Wii Sports e proprio Wii Sports è stata per stessa missione di Miyamoto un grande training ground per quelle che sono molte idee messe a realizzazione in questo Zelda l'utilizzo dell'arco ricalca le stesse meccaniche che si sono viste in Wii Sports Resort quindi si tende tirando indietro il nunchuck e poi si rilascia per far partire la freccia la stessa fionda si utilizza puntando con il remote poi c'è la frusta, anche quella segue i movimenti uno a uno fatti dal remote c'è un nuovo oggetto che è una specie di scarabeo volante che si lancia e può essere utilizzato per raccogliere degli oggetti anche quello si gestisce semplicemente reclinando il remote quindi veramente tanti contenuti nuovi, tutti focalizzati sull'utilizzo del motion sensor quindi in nome dell'immediatezza ma anche di meccaniche di gioco che sembrano veramente garantire una grande profondità e anche una grande varietà al tutto perché anche questa è una cosa che è risaltata nei pochi minuti concessi dalla demo si vede una grande varietà di gioco l'ambiente messo a disposizione non è enorme però ci sono moltissime cose da fare Link può arrampicarsi, può utilizzare gli oggetti in diverse maniere ci sono diversi nemici come dicevamo che hanno bisogno di tattiche differenti per essere uccisi spostandoci invece sul profilo un pochino tecnico è piacevole notare la scelta particolare che ha fatto Nintendo per quanto riguarda la grafica del gioco lo stile infatti è si può definire uno stile adulto che ricorda Twilight Princess però l'utilizzo dei colori che sono molto accesi anche qualche filtro particolare insomma dà al tutto una veste un po' più cartunesca quindi ci possiamo tranquillamente dimenticare l'atmosfera tetra di Twilight Princess il gioco si chiama Skyward Sword e ha un senso perché alzando la spada verso il cielo Link può caricarla di un potere magico che poi può rilasciare sotto forma di un'onda d'urto quindi davvero si ha l'impressione che sia un prodotto studiato fin nei minimi dettagli quello che i fan di Zelda volevano aspettarsi che probabilmente arriverà quindi ci sentiamo totalmente di escludere il rischio di un gioco casual che magari non offra la stessa esperienza classica degli Zelda con, ribadiamo, l'aggiunta di queste fortissime componenti motion sensor ma tutte integrate veramente molto bene nel tessuto di gioco Grazie a tutti